E' bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo amici mio video qua è Rosso Sangue e quest'oggi parleremo della partita Milan-Sassuolo finita 2 a 1 per il Sassuolo Una sconfitta che non ci voleva ma per fortuna ha pareggiato l'Inter Iniziamo con i voti del Milan poi con i voti del Sassuolo Milan-Donnarumma 6, Caldabire 6, Kiers 5, Tomar 5, Dalot 6, Meite 5, Kessi 5,5, Selemekris 6, Celenoglu 6,5, Rebic 6, Leao 4,5 Davvero brutto brutto Le entrate del Milan-Diez senza voto, Krunic 5, Mandzukic 5,5 e Pioli l'allenatore 5 Andiamo al Sassuolo Consigli 6,5, Maldur 5,5, Marlon 7, Ferrari 7, Gidian Colopalo Lullos 7, Obiang 6,5, Locatelli 7, Berardi 6,5, Digiuric 5, Boca 6, Defrel 6, Entrate Tolian 6,5 e Aras Asli senza voto E l'allenatore da Zerbi 7 E niente ragazzi per questo video è tutto Iscrivetevi, lasciate un like e niente Grazie a tutti